I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. La nostra grande monellaccia, lei sì che diventerà di una simpatia contagiosa, molto differente dalla mamma, molto più discola, si nasconde in camera e Chiara la va a cercare. Io voglio vedere quando sarà il momento di fare i compiti per la scuola, ve lo vedo la Vito. E qui c'è invece gli altri Ferragnes, Ricchi Nicoletti che prende in giro Edo sempre e la Gabri che guarda povera con una plomba impressionante, tutto molto rilassante, anche no.